Buongiorno a tutti, sono le 9.13, la registrazione è stata appena avviata, facciamo l'appello. Chi è presente dalle 9 me lo comunica, chi ha bisogno dell'attestazione me lo comunica. De Vivo? Presente. Alle Ori? Angelini? Presente. Bellassai? Presente. Turrelli? Buongiorno, presente dalle 9 con attestazione. Va bene. Cerisola? Vaccari? Presente con attestazione dalle 9, grazie. Benissimo. Allora, abbiamo ricevuto questo verbale che è il numero 11 del 30 marzo. L'argomento era l'approvazione del nuovo piano sociale 2023-2026, analisi dei progetti emersi dai tavoli tematici, servizi in continuità e nuovi da concludere. Allora, eravamo presenti. Non ho bisogno di condivisione, solo se si può. Sì, sì, lo faccio subito, aspetta. Hai ragione. Ma si può sempre perché, insomma, questa funzione non è... La vedete adesso? Sì. Sì. Ma vedete anche il triangolino nero della... Tutto, vediamo la... Se ingrandisci non vediamo il tuo schermo. Aspetta. No, ingrandisci nel senso... No, ingrandisci proprio allarghi il... Allarghi, esatto. A tutta pagina, a tutto schermo. Allora, i consiglieri presenti alle ore Angelini, Bellassai e Borrelli ci risolveranno a cari tutti, quindi non c'è problema. La Presidente, dopo aver constatato il numero legale alle ore 9.05, dichiara ufficialmente aperta la seduta odierna, regolarmente convocate per le 9, al primo punto dell'ordine del giorno, verbale del 16 febbraio 2023. La Presidente, in accordo con i commissari, prosegue con la lettura del verbale del 2 febbraio, esaminato dalla commissione nella scorsa seduta qua. Metterei un N nella scorsa seduta. Ma non approvato, in assenza del Presidente. Segue lettura del verbale del 16 febbraio, l'approvazione viene rinviata alla prossima seduta per verificare quanto comunicato dalla Presidente nelle varie eventuali. La Presidente prosegue con il secondo punto all'ordine del giorno, nuovo piano sociale 2023-2026, analisi dei progetti emersi dai tavoli tematici, servizi in continuità e nuovi da concludere, con un'ampia introduzione sull'argomento, ripercorrendo le fasi che hanno portato alla realizzazione del nuovo piano sociale. In realtà non è che già è stato realizzato il piano sociale, le fasi che porteranno alla realizzazione del piano sociale. La DSR rappresenta l'iter amministrativo seguito dagli uffici per la redazione del nuovo piano sociale. Prosegue indicando le funzioni dell'ufficio di piano, volta al coordinamento dei tavoli di concertazione e alla stesura del documento finale. sono stati definiti cinque tavoli. Benessere e qualità delle persone con disabilità. Promozione e benessere per minori, giovani e famiglie. Inclusione e contrasto alle vulnerabilità economiche e sociali. Benessere e qualità della vita delle persone anziane e della cronicità. Contrasto alle violenze di genere con l'introduzione della tematica LGBT. L'ufficio aggiunge che il documento finale è in fase di ultimazione. Inoltre informa la commissione che sono stati utilizzati i fondi dipartimentali per l'implementazione dei nuovi posti letto delle case di fuggio. Segue ampie illustrazioni di tutti i servizi implementati dal nuovo piano sociale. La consigliera Baccari fa riferimento a quanto rappresentato dall'ufficio e chiede il motivo per cui i cittadini hanno timore di rivolgersi all'ufficio sociale. Allora, l'ufficio spiega che tra gli incarichi del servizio sociale rientrano gli interventi di allontanamento dei minori in attuazione delle sentenze del Tribunale dei minori e gli interventi di sgombero. Questo genere ha il timore di richiedere aiuto ma l'ufficio sta lavorando per far acquisire alla cittadinanza fiducia nei servizi sociali. L'ufficio, in risposta alla richiesta del consigliere Alleori, informa che la mancanza di spazi disponibili per tutti i quartieri implica la difficoltà di raggiungere i quartieri periferici del municipio. Sempre in risposta al consigliere che ha richiesto quali sono le procedure per accedere al dopo di noi, l'ufficio informa che di questo argomento si occupano altri colleghi dei servizi sociali non presenti alla seduta odierna. Io cambierai il verbo qua, che ha richiesto quali siano le procedure. Il consigliere Alleori propone di utilizzare gli spazi dei CSA che sarebbero i centenziani, questo lo intendeva. Inoltre chiede il motivo per cui la scuoletta di Trigoria non sia stata utilizzata per finalità sociali. L'ufficio ricorda che la scuoletta si trova in uno spazio molto decentrato e presenta spazi non adeguati per bambini e adolescenti per ragioni di sicurezza. Comunica che con i progetti finanziati dalla legge 285 e con la quota povertà i servizi sociali sono presenti presso tre scuole del territorio municipale formato in estri e buzzati. Questo non me lo ricordavo. La consulta della disabilità osserva che nella redazione del nuovo piano sociale sono stati attenzionati i giovani e gli spazi di aggregazione sottolineando che nel tavolo permanente si dovrebbe attenzionare la situazione dei giovani con disabilità, non soltanto dei minori ma anche degli adulti. La consulta chiede inoltre di partecipare agli incontri sui giovani. L'ufficio informa che stanno lavorando per promuovere interventi in favore delle famiglie precisando che sono rivolte ai minori e ai giovani. L'assessore informa che il regolamento può essere modificato inserendo una dicitura più specifica. Quale regolamento? Non mi è chiara questa frase. Voi la capite? No, così ha detto però io non lo so. Che il regolamento può essere modificato inserendo una dicitura più specifica. La Presidente osserva che il piano sociale è rivedibile e può essere aggiornato anche in funzione dei fondi disponibili. Scusate se vi interrompo, non so se lei intendeva, perché la consulta di cosa ha parlato? Scusate un attimo perché mi sono persa. La consulta della disabilità ha chiesto di partecipare agli incontri sui giovani. E diceva che nel nuovo piano sociale voleva attenzionare la situazione dei giovani con disabilità nel tavolo permanente. Quindi non lo so. Ah, forse era nella consulta... No, aspetta... Provo a... Mi ricordo che si parla del fatto che nella consulta dei giovani c'è del rapporto tra la consulta giovanile e la disabilità, giusto? Sì, infatti sì, sì. Quindi il quale regolamento? Nel nuovo regolamento della consulta giovanile, se non erro. Allora lo aggiungiamo, sì, infatti. Lo sbaglio, eh? Eh no, penso che sia questo comunque, eh. Patrizia, tu però te lo dovresti ricordare. Ti ricordi che si era parlato del fatto che i disabili sono parte integrante, c'è l'attenzione al mondo della disabilità giovanile e parte integrante anche dei tavoli della consulta giovanile, giusto? Sì, sì, penso che sia questo, perché l'assessora rispondeva proprio... No, non me lo ricordo se c'è un tavolo, c'è all'interno del regolamento, stai dicendo, vero? Ho detto anche nella consulta stessa. I tavoli ce n'era uno solo, in qualche modo, c'era il tavolo, c'era soltanto il tavolo sulla storia, sulla resistenza, se non sbaglio, nella consulta giovanile. Però la consulta giovanile si poteva autoregolamentare, però in questo momento non lo so. E non so nemmeno adesso il regolamento della consulta giovanile, magari ci fa un piccolo breve... Arriva anche l'assessora... Eh, infatti, dopo magari glielo facciamo leggere. No, arriva l'assessora Tranquilli. Eh, infatti, è l'assessora Tranquilli che c'era questo giorno. Ah, è vero. Eh, quindi, capito? Quindi glielo passiamo... Se non erro, mi ricordo che proprio l'assessora ha detto questa cosa, cioè che era parte... Infatti io adesso l'ho inserito, poi quando viene, magari glielo facciamo leggere, così chiediamo la conferma, va bene? Io ho scritto così, infatti. L'assessora informa che il nuovo regolamento della consulta giovanile può essere modificato, inserendo una dicitura più specifica. Poi glielo chiediamo appena viene, così abbiamo la conferma. Ok. La Presidente osserva che il piano sociale è rivedibile e può essere aggiornato anche in funzione dei fondi disponibili. Aggiunge anche che una delle criticità presenti nel piano sociale è sempre stato il PUA. Pertanto chiede all'ufficio di fornire la bozza o l'indice del nuovo piano sociale. Inoltre ritiene importante avere una carta dei servizi competi e aggiornabili da distribuire utilizzando le porte sociali. In realtà scrivendo le porte sociali, qui è scritto male, questa frase la devo cambiare, utilizzando il… Vabbè, ci penso un secondo su come cambiare questa frase. Sì, perché questa è la trascrizione, quindi… Io leggo spesso la trascrizione, però tante volte quando uno parla non sempre… Come ho detto fix, volevo dire phishing. Vabbè, vabbè. Allora, l'ufficio informa che nel PUA è presente la guida interattiva ai servizi, tradotta almeno in due lingue, in un linguaggio semplice e facilmente comprensibile. Non nel PUA, che stanno facendo… Non è nel piano, cioè che… Non nel PUA. Non credo proprio che sia nel PUA la lingua interattiva ai servizi. Dov'è allora? Nel piano sociale? Allora, nel piano sociale loro vorranno… Quello che hanno detto gli uffici è che stanno lavorando su una guida interattiva, che è una delle cose che… Ok, allora il piano sociale, va bene. Sì, se vi ricordate bene, perché era questa cosa interessantissima che a me piacerebbe tanto vedere, che è digitale, nel senso che si informa di tutti i servizi presenti sul territorio. E quindi che cosa… quali sono i servizi sociosanitari e come si possono contattare. E questo lo stanno facendo integrato con l'ASL. Però, insomma, non è il PUA, il piano. Va bene, ho messo il piano. Sì, sì, ho inserito. Paluta, quale possa essere l'approccio dei consiglieri al nuovo piano sociale? Precisando che il punto non è avere l'indice o la bozza del piano, ma provare ad evitare un lavoro di commissione degli uffici su piani paralleli. Al fine di fornire un contributo fattivo, chiede una traccia work in progress per lavorare sullo stesso schema. Rammenta che la commissione può attenzionare il tema dell'autismo come richiesto dalla consulta. Su queste due, questa frase, poi dopo vi devo raccontare. Ah, ok. No, no, dopo. No, era uno dei vari eventuali. Io sono contenta di averlo riletto qui. La consigliera Vaccari si sofferma sul contrasto alla diversità LGBT, proponendo di divulgare l'argomento anche nei centri anziani, che si potrebbero trovare ad affrontare questo tema per figli o nipoti, ma anche per alcuni di loro che non hanno avuto la forza di uscire dalla comfort zone, continuando a vivere il disagio e di sentirsi diverso. Per quanto riguarda la violenza di genere, è a conoscenza che i fondi per il CAV sono sempre troppo pochi e le domande continuano ad aumentare. Anche nelle scuole comunali si possono organizzare interventi volte all'educazione rispetto alle persone iniziando le scuole materne. L'ufficio conferma che il centro antiviolenza dispone di fondi esigui. Fortunatamente un finanziamento della Chiesa Valdese ha garantito il supporto degli psicologi. Aggiunge che anche per il piano sociale chiederanno un implemento di fondi. Un implemento di fondi. Incremento io scriverei, non riesco manco a dirlo, implemento di fondi. Vabbè, però questo ha detto. Vabbè, però è un incremento di fondi. E allora mettiamo un incremento. Implementazione è sinonimo però. Infatti non capisco, cioè cambia proprio le parole simili, non vedo il senso. Comunque se volete io lo cambio. No, secondo me puoi lasciare tranquillamente il implemento. Ok, grazie. Che io non riuscivo a pronunciarlo. Soprattutto per il centro Alzheimer e per il centro Anziani Fragili. Prosegue illustrando il progetto sul contesto alle emergenze climatiche informando che non graverà sul municipio, in quanto il Dipartimento ha accordato i fondi richiesti. L'emergenze climatiche. Piano caldo e piano freddo. Sì, piano caldo e freddo che tra l'acqua non c'è più perché noi abbiamo 365 giorni l'anno. Se volete lo metto tra parentesi, piano caldo e piano freddo. Ma no, si capisce. Ok. Stavo pensando a un'altra cosa. Emergenze climatiche in generale, no? Non riferite ai poveri. A seguire illustra il progetto la forza nello sport rivolta ai giovani e adulti con disabilità fisica o con disturbi del comportamento. Nella rimodulazione del centro di Urna Gadda è emersa la necessità di prevedere risorse lavoro con un progetto unico sia per persone con fragilità sanitaria sia con fragilità sociale. Tutti i progetti hanno avuto un impatto positivo, soprattutto il progetto In Noi Con Voi. Unico progetto sul Roma dedicato alle malattie oncologiche che ha ottenuto grandi risultati offrendo un supporto alle famiglie che vivono drammatici momenti di fragilità. Questi ultimi due progetti sono condivisi con l'Asra Roma 2. L'ufficio a questo punto fornisce un quadro economico delle schede progetti informando che sono previsti 539.000 euro totali, di cui 235.000 euro risultano già finanziati per le dimissioni protette. Il progetto Magic Family risulta parzialmente finanziato fino al 30 giugno con 69.000 euro ed è stato richiesto alla cooperativa di potenziare gli interventi legati alle segnalazioni dell'autorità giudiziaria Tribunale dei Minori. Per l'emergenza climatica… Scusa Patrizia, sono Gino per dire che sono entrata alle 9 e mezza. Sì, grazie Gino. Va bene, serve la giustifica? Sì, grazie con giustifica, grazie. Va bene, va bene. Per l'emergenza climatico, piano caldo e piano freddo hanno chiesto un finanziamento al Dipartimento delle politiche sociali riuscendo a coprire tutto l'anno. Per il centro estivo Castel di Leva, affidato alla cooperativa, è stata prevista una spesa di 86.000 euro ed è stato richiesto il potenziamento di personale, un assistente sociale con 36 ore, due assistenti sociali e con 20 ore e con 20 ore è un mediatore culturale. La Presidente precisa che la Commissione deciderà fornire un apporto partecipativo affinché questo piano sociale sia sempre più vivo e diffuso nel territorio, attenzionando la carta dei servizi digitali e prevedendo un incontro con l'Astro Roma 2. La Presidente chiede all'Ufficio di trasmettere i progetti e le schede illustrati. Il Consigliere Bellassetti ritiene che sia stata fornita un'ampia illustrazione dagli uffici con concretezza e dettaglio. Aggiunge che questo è uno degli ambiti nei quali ecceglia l'amministrazione locale per il quale dovrebbe essere prevista una forma di premialità, fornendo un supporto concreto con un incremento del personale. L'Ufficio conclude che dopo l'approvazione del piano sociale verrà svolto una riunione plenaria con la presentazione del lavoro svolto. Il Consigliere Alleori propone di valutare i progetti presentati nella seduta odierna, convocando le commissioni specifiche su singoli temi. A suo avviso è necessario implementare la presenza dei servizi sociali in tutto il territorio municipale, utilizzando tutte le risorse disponibili oltre a CSA, scuole e parrocchie, per garantire la presenza del municipio anche presso i quartieri limitrofi. Il Consigliere Borrelli alle 12 abbandona la seduta e il Consigliere Alleori propone la scuoletta di Tricoria che pur presentando varie criticità si potrebbe utilizzare per fornire le risposte ai bisogni del territorio. Popone inoltre di verificare la possibilità di utilizzare i beni confiscati alla mafia a vantaggio del raggiungimento dei territori limitrofi. La Consigliere Vaccare ricorda che tra i beni confiscati alla mafia si può verificare la possibilità di utilizzare la villa della Selvotta. Il Consigliere Bellassare 12.22 abbandona la seduta. La Presidente per varie eventuali affronta l'argomento relativo al corso per predisporre dei fibrillatori. Il Consigliere ci risolve a non metter in dubbio l'esistenza di un piano di intervento previsto dall'amministrazione, ma ne viene necessario fornire indicazioni sulle modalità di intervento in caso sia presente un estraneo. Pertanto chiede di visionare l'elenco delle persone che gestiscono dei fibrillatori e ne hanno la responsabilità in caso di emergenza. La Consigliere Vaccare ricorda che si tratta di un elenco pubblico pertanto non riavvisa alcune difficoltà nel richiederlo, segue ampio dibattito. La Presidente, concluso l'argomento e constatato che non è presente posto all'esaminare, dichiara chiusa la seduta alle 12.50. Io volevo correggere questa parte qua, però vedo che ci sono… Un attimo perché mi sono persa un secondo, aspettate, dove siamo? Ho finito di leggere. Ok. Ah, la parte precedente, sì. Delle porte sociali, ok, eccomi. Eccomi, sì sì, sono qua. Ho trovato il punto. Allora, una carta completa e aggiornabile, io toglierei le porte sociali, una parte servizi completa e aggiornabile, punto. Va bene. Fa troppo complicato spiegare. Ok, ok. Non so se qualcuno di voi vuole fare delle correzioni. Va tutto bene per tutti quanti? Per me va bene. Allora, aspettiamo un attimo che arrivi anche tranquilli per capire quel punto. L'assessora c'è, l'assessora c'è, l'assessora c'è, sono già collegato. Allora glielo chiediamo subito, così magari… C'è un passaggio, assessora, un passaggio che la riguarda che chiederemo una specifica. Io non mi sono accorta che si era collegata, benvenuta, assessora, stavo leggendo il verbale. Allora… No, è la posizione dello schermo, non potevi vederlo, tranquilla. Allora, ecco qua, tolgo questo… Un attimo, allora è questo qua, questo qua è il punto. Allora, stavamo parlando del piano sociale e si deve riferire alle frasi precedenti. La consulta di disabilità osserva che nella redazione del piano sociale sono stati attenzionati i giovani e gli spazi di aggregazione, sottolineando che nel tavolo permanente si dovrebbe attenzionare la situazione dei giovani con disabilità, non soltanto dei minori ma anche degli adulti. E la consulta inoltre chiede inoltre di partecipare agli incontri sui giovani. L'ufficio informa che stanno lavorando per promuovere interventi in favore delle famiglie, precisando che sono rivolte ai minori e ai giovani. L'assessora, saresti tu, sarebbe lei, informa che il regolamento può essere modificato inserendo una dicitura più specifica. Era il regolamento della consulta dei giovani che poteva essere modificato? Allora, parlavamo, sì, ci avevo messo un attimo a capire, però sì, lì parlavamo della consulta dei giovani e in particolare, se non ricordo male, la presidente della consulta della disabilità chiedeva rispetto ai gruppi di lavoro di inserire all'interno dei gruppi di lavoro anche i ragazzi e le ragazze con disabilità, insomma la tematica in modo tale che ci fosse una maggiore integrazione. Io su questo vi dicevo che uno dei gruppi di lavoro, di quelli fissi, che non possono essere cambiati, che abbiamo messo noi, in realtà comprendeva l'integrazione di tutti i ragazzi e appunto le ragazze del territorio e aggiungevo che se però, secondo lei, era un punto che poteva escludere, a quel punto si poteva cambiare la dicitura. Però adesso, se volete, io di solito ho gli appunti e me lo ricontrollo un attimo. No, ma l'assessore aggiungeva, se nel caso non fosse sufficiente, si può eventualmente ulteriormente specificare la denominazione, in questo il senso del cambiare regolamento. Era proprio riferito a questo. Cambiare la dicitura di uno dei gruppi di lavoro, ora non mi ricordo. Vi posso chiedere in che data era la commissione? 30 marzo. Vabbè, comunque il gruppo è quello su diritti… No, noi volevamo sapere solamente se il regolamento che poteva essere cambiato era quello della consulta giovanile. Era quello della consulta giovanile. Perfetto, grazie. Sì, sì, era quello. Va bene, quindi come diceva il consigliere Borrelli. Perfetto, come ricordava. L'ho inserito. Grazie. Allora, aspettarei. Se per tutti quanti va bene, manca Cerisola che possiamo farglielo vedere alla prossima riunione, oppure se si collega più tardi. Come al solito, cerchiamo di avere questa linea. Se ci sono degli interventi delle persone all'interno di un verbale, vogliamo che le persone lo vedano. Quindi lo rinviamo? Lo rinviamo un attimo? Sto accantinarlo. Magari se si collega, quando si collegherà Cerisola, lo aggiungiamo. Va bene. Diamo il benvenuto all'assessore Tranquilli. C'è anche Fabio. Benvenuto Fabio. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Scusate se vi abbiamo fatto aspettare qualche minuto. Innanzitutto, interrompo un attimo la condivisione dello schermo e prendo la risoluzione che discutiamo oggi. Però io faccio una piccolissima introduzione. risoluzione è questa qua. Ecco qua. No, non ho sbagliato. Ecco qua. Allora, faccio di nuovo condividi. Allora, oggi il consigliere Fabio Eicca, presidente della commissione speciale, che abbiamo invitato a questa riunione oggi, ha presentato questa risoluzione che passerà sia nella commissione PNRR più tardi, che verrà analizzata più tardi nella PNRR, verrà analizzata anche nella commissione scuola e nella commissione politiche e sociali. L'argomento è l'adessione del municipio al progetto Europa in municipio, è stato chiamato, ed è un progetto proposto da questo centro dell'Università di Roma 3, Europe Direct, di cui ci parlerà Fabio, il consigliere Fabio Eicca. L'obiettivo delle attività del centro Europe Direct Roma 3 è quello di sviluppare le conoscenze, anche la coscienza dell'appartenenza alla comunità europea e mediamente ogni anno ogni anno vengono coinvolti ragazzi delle scuole superiori, adesso non so se sono soltanto le scuole superiori, magari ce lo può raccontare meglio in seguito, e questi ragazzi delle scuole superiori vengono a conoscenza di come funziona la comunità europea, quindi di come è la comunità europea organizzata, quali sono i temi che la comunità europea mette in, come si sviluppano i temi, come vengono, cosa significa fare una direttiva europea, sappiamo anche che, e verranno anche a sapere che c'è una piramide nella scala della legalità che mette la direttiva europea a secondo posto di questa piramide, noi abbiamo prima la Costituzione, poi abbiamo le direttive europee, i regolamenti anche, e poi abbiamo le nostre leggi ordinarie, poi abbiamo le leggi regionali e via via sempre giù scendendo, quindi l'importanza della comunità europea nel governare tutto il sistema legislativo e anche i temi su cui sono coinvolti per tutta l'Europa. Penso che queste, anche i miei nipoti hanno partecipato anni fa, i miei nipoti romane hanno partecipato anni fa a questo progetto, sono uscite da questo progetto entusiaste e in particolare erano organizzati che ogni ragazzo rappresentava un paese e all'interno del paese era anche iscritto a un gruppo politico, diciamo, e hanno simulato, hanno proprio fatto, hanno proprio scritto delle delibere, hanno proprio fatto una simulazione rendendosi conto di tutto, di quello che significa lavorare insieme e formare, diciamo, lavorare per una comunità. Questo io trovo che sia un progetto, un progetto bellissimo che l'Europa sviluppa in tutti i suoi paesi, quindi sono veramente contenta che Fabio Ecca lo abbia subito intercettato e con questa risoluzione che magari adesso ci racconterà lo possiamo portare direttamente nel nostro municipio. L'ho presentato non molto bene, Fabio, però passo a te la parola, poi magari dopo interrompo la visualizzazione della risoluzione passerei a Fabio la parola che non so per quanto tempo Fabio puoi stare in commissione con noi. Fino alle undici e un quarto, quindi abbiamo tutto il tempo. Ah, meno male, ero preoccupata. Allora, e poi magari, prego Fabio. Grazie, grazie Presidente, grazie a tutti i consiglieri che mi ospirano e all'assessore, diciamo, che risentirà cose già dette, però mi scuserà, insomma, da un punto di vista formale. È giusto e corretto che la commissione speciale assolva ha una delle sue funzioni più importanti che è quella di collaborare in maniera costruttiva con le altre commissioni cosiddette ordinarie nel sottoporre loro idee, soluzioni da condividere insieme. nel caso specifico questa che è è nata da una l'audizione del Europe Direct di Roma 3, quindi il centro di rappresentanza dell'Unione Europea che si occupa di Roma Sud, ottavo, nono, decimo e undicesimo municipio, ci ha sottoposto appunto in una congiunta con la commissione scuola motivo per la quale mi permetto di correggere al presidente di Vivo questa proposta di risoluzione verrà anche esaminata dalla stessa commissione scuola. Qual è lo spirito di questa proposta di risoluzione? È contrastare su diciamo come dire indicazione dello stesso diciamo commissione europea contrastare la diminuzione delle persone che ogni cinque anni si regono a votare per le elezioni europee o meglio per eleggere i rappresentanti dell'Italia nei vari partiti che rappresenteranno l'Italia nel Parlamento Europeo e che via via sono diciamo selezionati individuati da un numero sempre minore di persone e questa è una linea tendenziale che è stata come dire oramai in auge da oltre vent'anni e che solamente nell'ultima elezione quella del 2019 è stata parzialmente invertita ma solo veramente per la categoria dei più giovani e delle persone che si avvicinano e per la prima volta nella loro vita potranno individuare o contribuire a eleggere i propri rappresentanti in Parlamento Europeo la proposta riprende diciamo nello spirito un vecchio progetto europeo che trovate menzionato diciamo nella proposta di risoluzione nei primi passaggi e soprattutto quello a cui si diciamo faceva riferimento la Presidente di Vivo ovvero il programma partecipato delle Nazioni Unite che ogni anno agevola la partecipazione di ragazzi giovani che appunto simulano una seduta delle Nazioni Unite in cui appunto possono scrivere proposte redigere atti fare trattative e via discorrendo quindi l'Unione Europea sostanzialmente ha ripreso questa questa forma e ha dato diciamo mandato ai centri come Europe Direct di Roma 3 di diciamo farla calare per la prima volta negli enti e nelle istituzioni più di prossimità come appunto sono i municipi da qua appunto il nostro coinvolgimento si tratta di una serie di incontri e lo dico sostanzialmente in maniera veloce e poi naturalmente se i consiglieri lo desiderano posso rispondere a tutte le domande che vogliono si tratta di una serie di incontri divisi sostanzialmente in due gruppi una prima parte è un momento di simulazione diciamo interattivo che si potrà svolgere preferibilmente tendenzialmente nelle aule maglie delle scuole perché il target individuato è naturalmente quello dei giovani diciamo che si avvicineranno per la prima volta alle elezioni europee ma potremmo essere coinvolgere anche motivo per cui è oggi anche in commissione in esame a commissione politiche sociali e politiche giovanili e in cui è naturalmente coinvolta anche l'assessore tranquilli che ha le delege alle politiche giovanili può essere coinvolta anche la consulta dei giovani che abbiamo istituito da poco e può essere costituito quindi nelle aule si possono incontrare questi questi incontri si possono realizzare scusate questi incontri nelle aule maglie ma anche nell'indicazione che si è concordato dare in commissione speciale anche l'aula consigliare e persino poter utilizzare laddove è possibile il centro Europa Experience che è quel centro non so se l'avete mai visto situato a piazza Venezia dedicato a David Sassoli e che riproduce in piccolo il parlamento di Bruxelles anzi meglio di Strasburgo da questo punto di vista diciamo funge diciamo come location in cui ricostruire simulare incontri tra i giovani che rappresenteranno ogni singolo paese d'Europa un secondo blocco di incontri che completerà il ciclo di Europa e il municipio sarà quello più prettamente formativo di tipo tradizionale che sarà anche prevederà anche soprattutto la visita al centro Europe Direct di Roma 3 che sta tra l'altro vicino a noi appunto le facoltà di giurisprudenza di Roma 3 è un ciclo di incontri che si svolgerà a titolo completamente gratuito per il municipio in vista delle elezioni del maggio del 24 quindi avremmo di fatto un anno di tempo per coinvolgere più ragazzi possibili per far capire a loro qual è la procedura legislativa e la procedura elettiva che caratterizzano il Parlamento Europeo e la Commissione Europea come vengono realizzate le direttive europee come vengono diciamo decisi gli stanziamenti per il settennato come vengono impostate il lavoro diciamo di costruzione dell'Europa che come sappiamo è ancora in corso naturalmente le singole date degli incontri saranno da concordare con il centro York Direct che è disponibilissimo diciamo e che si rende disponibile praticamente cinque giorni su sette alla settimana e che metterà diciamo a disposizione tutto il materiale necessario sia cartaceo che diciamo logistico quindi la sala di Piazza Venezia ad esempio e diciamo potrà coinvolgere o provare a coinvolgere il diciamo i giovani anche all'interno delle proprie come dire enti strumenti di comunicazione di informazioni loro tendenzialmente a oggi utilizzano soprattutto la radio con un podcast podcast ammirati quello che si cita in genere listen to you e tu sarebbe però insomma poi sono cose che si possono sicuramente concordare con loro l'essenziale quindi invogliare i ragazzi indipendentemente dai partiti che decideranno di votare e dalle persone che decideranno di votare invogliare i ragazzi comunque a partecipare al momento più alto di una democrazia e quello elettivo dare il proprio contributo poter usufruire anche e your direct lo metterà proverà a mettere a disposizione sia la rappresentanza della commissione europea in Italia a Roma sta al centro ma insomma si sono resi disponibili sia gli singoli europarlamentari che spiegheranno ai ragazzi tutto il meccanismo e cosa fanno di specifico loro e come funziona la macchina europea quindi è sostanzialmente un momento di formazione e informazione rivolta ai ragazzi sui temi europei questo è lo spirito della proposta di risoluzione quindi di accoglimento del progetto Europa in municipio indirizzandolo e dandogli diciamo i paletti necessari per essere diciamo perfettamente compatibile con le funzioni e il ruolo del municipio stesso grazie grazie consigliere ecca io non so se già vuole intervenire l'assessore tranquilli però avrei già delle domande da porre una è questi cicli di incontri che vengono fatti sono riguardano cioè quanti ragazzi possiamo coinvolgere 50 100 200 il che significa farne tanti di cicli di incontro quindi capire un attimo se c'è un limite immagino che poi verrà specificato all'interno del protocollo perché la risoluzione chiede di fare un protocollo di intesa con il centro e quindi all'interno di questo protocollo potranno essere specificate tante cose e quindi e poi volevo chiedere anche l'assessore tranquilli se oltre alla consulta dei giovani che è fondamentale che è composta anche da tantissimi ragazzi che sono rappresentanti di istituto e quindi tramite loro si può veicolare questa informazione agli istituti ma anche se possiamo coinvolgere per esempio alcune associazioni per esempio possiamo coinvolgere i ragazzi del muretto adesso non lo so se possiamo chiedere all'associazione che gestisce il centro dei ragazzi del muretto se questi adesso non so l'età che hanno ma magari i più grandi se ci sono ragazzi intorno ai 16 17 anni che si trovano che soffruiscono del servizio sociale i ragazzi del muretto che sta a spinaceto nella casa 9 se possono partecipare anche loro a questo programma e poi essenzialmente che tipo di supporto chiedono da parte nostra questa Europa il centro europeo di Roma 3 chiede ovviamente immagino tutto quello che i partecipanti la rete che noi possiamo offrire penso che siano un pochino queste anche la forza del nostro municipio in che modo possiamo collaborare in che modo possiamo spingere e poi oltre al numero di ragazzi capire se queste cose possono essere fatte sparpagliate in un tempo vasto cioè da qua al 2024 abbiamo un anno probabilmente abbiamo solo un anno di tempo e se queste cose possono essere sviluppate se ci sarà un piano all'interno di questo protocollo e l'ultima cosa che volevo chiedere anche a Fabio era capire se ho visto che questo centro di Roma 3 non ha soltanto questo è un programma specifico per i giovani ma esistono anche programmi per un target diverso quindi per persone più grandi insomma se in questo protocollo magari si può mettere anche una un servizio di informazione sulla comunità europea da divulgare insomma da poter portare in giro l'interno del municipio questo non lo so l'ho buttata là prego assessora tranquilli intanto buongiorno di nuovo e grazie per avermi coinvolta anche in questa commissione ero già andata nella commissione speciale di cui oggi c'è il presidente Ecca quindi questo progetto è molto come ci siamo detti quella volta interessante sono felice che verrà coinvolta anche la commissione scuola perché in questo modo diciamo c'è un lavoro a tre che rende completo tutto il progetto credo allora rispondo subito così poi lascio subito la parola al presidente Ecca alla domanda che mi faceva presidente sì anche in quella commissione l'avevamo detto di coinvolgere i nostri CAD non soltanto i ragazzi del Muretto ma anche il centro di Via Duglio Viola ovunque diciamo noi abbiamo dei progetti attivi quindi dove ovviamente con i ragazzi che però o stanno per diventare maggiorenni o diciamo sono già in hanno già il diritto di voto e quindi per dirla chiaramente anche perché sarebbe poi un problema immagino per proprio la parte degli incontri perché sono parati su un target un po' più grande quindi i bambini per esempio di 12 anni possono essere un po' più difficili da coinvolgere però il coinvolgimento dei nostri progetti attivi attraverso i CAD assolutamente l'avevamo già detto quindi lo ridico anche in questa sede e aggiungo però una cosa che non so se ho saltato io quindi nel caso presidente mi termi subito presidente Ecca sulla parte delle interviste non so se è stata detta no non è stata detta ok aggiungo allora questa piccola cosa che ci diceva l'altra volta Chiara Esposito che parlava lì appunto per l'associazione di Roma 3 che c'è la possibilità di fare delle interviste radiofoniche negli spazi di Roma 3 che sono dedicati appunto a questo e quindi i ragazzi anche in questo caso diciamo non soltanto delle scuole ma anche di quelli che fanno parte dei progetti che poi ovviamente coincidono perché poi sono gli stessi studenti e studentesse delle nostre scuole potrebbero partecipare a queste interviste loro ci proponevano e la cosa che aggiungevamo noi in quel caso durante quella commissione era quella di capire come elaborare i dati che escono fuori da quelle interviste cioè di non lasciarle soltanto come delle interviste ma utilizzare diciamo quei momenti quindi il momento dell'intervista per elaborare le dati e capire anche noi meglio quelle che sono le istanze le esigenze delle giovani generazioni rispetto alla tematica europea aggiungo poi un'ultima cosa questa però è una diciamo nuova non proposta però l'avevo già detto sia al presidente Ecca che anche alla presidente dei vivo cioè che il 9 il 9 maggio è la giornata dell'Europa e noi un po' ovviamente mi metto in prima persona ci siamo fatti trovare impreparati ci siamo fatti trovare impreparata purtroppo questo progetto appunto è stato proposto però come sempre i tempi delle volte si allungano un po' troppo se riusciamo anche soltanto a livello di comunicazione a pensare a una piccola cosa diciamo da intanto dare a questi ragazzi per il 9 maggio che lo so che stiamo parlando di martedì prossimo quindi i tempi sono molto stretti però anche una lettera di accompagnamento per esempio da mandare alle scuole da mandare ai ragazzi e le ragazze appunto che partecipano ai nostri CAG a firma chiaramente del municipio e quindi che venga anche dalla commissione potrebbe essere anche un buon modo diciamo per aprire questo progetto anche se non lo formalizziamo ancora non so se mi sono spiegata bene non è diciamo per formalizzare il progetto per lanciare già il progetto perché questo chiaramente non si può fare però per accompagnare perché altrimenti poi arriviamo magari a qualcosa che loro già se lo trovano ma per accompagnare dicendo che ci sarà e quindi per coinvolgerli fin da subito non so che cosa ne pensate è una cosa che diciamo mi è venuta in mente ieri mentre parlavo con la presidente di Vivori dicevo forse dobbiamo pensare qualcosa per il 9 mi è venuto in mente quindi questa cosa qua che adesso vi dico e ditemi anche voi se pensate che non sia fattibile insomma lo capisco perfettamente grazie assessora è collegato si è collegato Marco Marco Cerisola è collegato quindi avvisiamo la Caterina di segnare l'ingresso di Marco Cerisola sì va bene alle 10 e volevo solo sapere se aveva bisogno della giustifica il consigliere Cerisola grazie consigliere Cerisola ha bisogno della giustifica sì per favore grazie va bene perfetto non so se io ho fatto anche altre domande magari facciamo rispondere un attimo a Fabio questa cosa della nota ci ragioniamo un attimo tutta la commissione mi sembra una cosa interessante però insomma dobbiamo un attimo digerirla anche perché facciamo una nota cioè per il 9 maggio noi questa risoluzione non l'avremo approvata non abbiamo il tempo di approvarla in consiglio e quindi non so se penso che l'assessore tranquilli intendesse che al di là della questa singola diciamo iniziativa Europa in municipio in occasione del 9 maggio ci possa essere diciamo una comunicazione un saluto ai ragazzi alle persone in cui si ricorda appunto la festa dell'Europa è sostanzialmente il ruolo dell'Europa al di là della singola iniziativa penso di interpretarla in questa maniera esattamente grazie io ho capito che si poteva parlare direttamente di questa iniziativa Europa in municipio quindi avevo capito male riprendo soltanto al buonissimo varola era proprio non possiamo chiaramente perché la risoluzione come diceva poco fa non sarà approvata però accompagnare diciamo questo processo anche della risoluzione e poi del progetto che ne verrà fuori con una nota con una comunicazione che scegliamo insieme va bene ora ci ragioniamo chiedo anche agli altri consiglieri di esprimersi su questo punto vedo che si vuole parlare Gorrelli se posso presidente intanto rispondere alle domande sì sì prego allora da un punto di vista del gruppo dei ragazzi allora il progetto è illimitato quindi teoricamente potremmo coinvolgere tutti i ragazzi del municipio nel ciclo di incontri Europa e municipio naturalmente c'è un problema di tipo logistico per cui ad esempio Europe Experience a Piazza Venezia ha una capienza di 40 persone quindi dovremmo organizzare diciamo gruppi di 40 persone massimo ovviamente se le aule manie sono più grandi si potranno fare gruppi più numerosi in aula consiglio ad esempio penso che ci sia opportuno farlo anche un pochino più ridotto rispetto a 40 persone nei CAG magari si può fare diciamo un numero ancora diverse quindi possiamo tranquillamente tagliare il numero dei partecipanti al ciclo di incontri a seconda diciamo della logistica certamente questa non è l'unica collaborazione che con Europe Diet diciamo il municipio già ha ma i componenti della commissione speciale che sono presenti anche in questa commissione si ricorderanno insomma che non sono non è la prima volta che li prendiamo che vengono in audizione c'è una collaborazione fattiva annuncio che con loro stiamo monitorando un bando che europeo che dovrebbe uscire proprio adesso San Maggio per la mobilità temporanea dei rappresentanti delle istituzioni di prossimità europee quindi sostanzialmente noi come consiglieri municipio e probabilmente anche la parte amministrativa dei municipi per andare vediamo adesso come sarà tagliata per un mese per una settimana per cinque giorni in un'altra istituzione diversa da quella del paese di origine a fare la stessa identica esperienza naturalmente da capire diciamo appunto come sarà organizzata una specie di mini erasmus o mini maricchiori diciamo così dei consiglieri municipali quindi quella sarà potrà essere un'altra occasione di collaborazione perché poi ovviamente saremmo noi quindi comunque sia col centro europe direct municipio sta collaborando fin dai tempi diciamo dell'istituzione della commissione speciale le altre domande non me le ricordo più presidente se fra i programmi di europe direct potevamo anche coinvolgere un target diverso dai giovani ah certo certo allora questo europe questo europe municipio è pensato anche come linguaggi e come diciamo organizzazione in maniera preferenziale sui ragazzi diciamo 18 20 22 anni a seconda diciamo di quando hanno avuto la possibilità di andare a votare da un punto di vista pratico potremmo fare o pensare di chiedere di concordare con europe direct anche un chiamiamola in maniera scherzoso europe municipio 2 pensando un progetto con la stessa più o meno organizzazione diciamo rivolta a target e quindi con linguaggi comunicativi diversi e quindi quello possiamo sicuramente chiedere di predisporlo insomma anche da un punto di vista pratico questo sicuramente cercando di tagliare identificare un target di riferimento specifico perché altrimenti la comunicazione diciamo è più difficoltosa quindi in linea teorica sì bene bene questa è molto interessante questa cosa perché ci possiamo ragionare perché il discorso dell'attenzionismo alle votazioni in generale è un discorso che va contrastato perché più c'è attenzione più più vuol dire che la gente meno partecipa alla vita democratica e politica del paese della comunità e di tutto un'altra cosa molto importante che a me piacerebbe quando sono stata in visita la comunità europea c'è tutta la storia di come è nata la comunità europea anche quella i padri fondatori noi oggi secondo me parlo anche personalmente è necessario approfondire quella parte di storia che ci ha visto nascere perché è la storia anche che ci tiene uniti che ci fa riconoscere una comunità ce l'abbiamo e non viene raccontata o meglio viene raccontata soltanto se vai al Parlamento europeo e ti accorgi di tutto quello che è successo nel 1950 nel 51 ti accorgi proprio dell'evoluzione di come è nata la comunità europea e anche del perché è nata la comunità europea ritengo che sono dei temi fondamentali importantissimi che non sono oggi a conoscenza di tutti come non è a conoscenza di tutti quanti sono il numero banalmente dei paesi che compongono la comunità europea come noi troppo spesso diamo sempre all'Europa la colpa di tante cose un pochino anche per in un gioco a mio parere non non corretto di di spostare alcuni problemi nostri spostare verso l'Europa e insomma penso che mi piacerebbe tanto anche che questo progetto Europa 2 scherzosamente chiamato Europa 2 municipio si possa anche parlare di storia di questa cosa perché secondo me è veramente molto interessante prego Danilo sì grazie presidente io provo a distinguere diciamo delle considerazioni sull'atto in senso stretto e quindi valutazioni politiche più complessive da quelle che possono essere diciamo considerazioni sulla traduzione concreta dello stesso e dico subito perché correndo il rischio anch'io di essere puntiglioso in questa situazione come spesso non me ne vuole la presidenza la presidente dei vivo perché ovviamente è un complimento come spesso è la presidente dei vivo cioè che ci chiede pedisticamente di sviscerare ogni singolo punto lo dico perché in questa commissione in particolare la grande maggioranza degli atti o comunque dei temi oggetto della discussioni diciamo settimanali ci vedono diciamo tendenzialmente quasi tutti concordi se non tutti concordi ma a volte il tema è sulla traduzione e l'effettiva quindi realizzazione degli stessi soprattutto quando gli atti in senso stretto prevedono una pubblicizzazione mi spiego meglio molto spesso noi affrontiamo temi su diciamo servizi che vengono erogati gratuitamente li promuoviamo e quindi abbiamo un'ottima partecipazione e poi è difficoltoso renderli effettivi nei tempi stabiliti nelle modelli stabiliti per tutte le persone che ci hanno detto sì mi piacerebbe farlo quindi secondo me questa domanda che faceva la Presidente De Vivo mi sento di rifarla anch'io cioè nel senso l'atto è più che condivisibile e assolutamente l'ho detto anche in commissione PNRR di cui io stesso faccio parte proviamo a immaginarcelo concretamente quindi separando quello che è l'iter da quello che può essere l'iter diciamo consigliare da quello che potrebbe essere la traduzione concreta cioè le scuole stanno finendo fra un mese e mezzo e quindi immagino che nella traduzione concreta ne riparliamo a settembre le lezioni ne abbiamo l'anno prossimo quindi i tempi ci sono tutti anzi calza a pennello però proprio per questo anche slegandolo dalla discussione dell'atto e poi vengo sulla data del 9 maggio a cui ci richiamava l'attenzione l'assessora prima proviamo a immaginarci anche concretamente come riusciamo a concretizzarlo scusate il gioco di parole e quindi chiediamo anche per le vie breve anche rischiando di essere come dire ottusi puntigliosi mettiamo in senso buono quanti slot cioè quante giornate eventualmente abbiamo a disposizione quante persone ce lo diceva il presidente Ecca in quante ore si concretizza questi momenti di partecipazione cioè proprio questi elementi concreti che fanno sì che nel momento in cui pubblicizziamo il senso dell'iniziativa abbiamo anche come corollario tutte le informazioni concrete per poterla realizzare e quindi in questo modo andiamo non dico a scremare ma a riuscire a avere quasi immediatamente come dire la possibile realizzazione di quanto abbiamo ipotizzato ecco lo dico perché veramente negli ultimi diciamo temi attenzionati da questa commissione questo elemento se non pedisseguamente sviscerato poi rischia di creare difficoltà di realizzazione quindi mi sento di dire questa cosa ovviamente sul senso politico e l'atto ho già detto assolutamente stra condivisibile e opportuno bene anche sul non lo so spin off cioè la parte 2 diciamo del progetto mi vede assai concorda anche questo sulla data del 9 ho una cosa per rispondere all'assessora secondo me è più che sacrosanta anche slegandola ovviamente dall'iter diciamo consigliare dell'atto stesso o una nota della commissione delle commissioni o la butto lì prendetela come intervento in discussione generale non ordine lavori passatemi la puntualizzazione un testo che presentiamo oggi fuori sacco in consiglio cioè noi fra qualche ora siamo in consiglio e alcune commissioni sono già state attenzionate della cosa se scriviamo due righe ovviamente se condivise possiamo eventualmente votarle anche oggi in aula se c'è condivisione cioè io non sarei per nulla contrario quindi teniamo eventualmente queste ipotesi se volessimo come dire approfittare del fatto che abbiamo una data e che fra qualche ora siamo tutti insieme collegati se non volessimo farlo nessun problema va bene anche scrivere due righe come commissione se non volessimo fare anche questa immagino che l'aggiunta autonomamente può ovviamente occuparsi anche del tema però cioè io terrei queste ipotesi diciamo nella discussione generale ecco mettiamola adesso di questa commissione di questa commissione perché in questo momento ci troviamo a discuterne insieme penso aver detto tutto scusate se sono stato puntiglioso però secondo me questo elemento ci serve proprio per concretizzare e può cogliere quello che io penso ci sia c'è una reale voglia di partecipazione e quindi passatemi il termine la provocazione la metodo tra virgolette un eccesso di domanda che ovviamente va gestita proprio per renderla effettiva ok grazie presidente grazie Danilo sì io queste cose interessantissime le cose che sono state dette per quanto riguarda il discorso della concretezza anche a me piacerebbe essere più concreti però immagino che si possa questa concretezza potrebbe essere presente all'interno del protocollo che chiediamo di firmare all'interno del protocollo potremmo potremmo indicare non so se vogliamo anche corraggere la risoluzione non so però potremmo indicare all'interno del protocollo proprio questi elementi di concretezza anche l'inserimento dei CAG che però vedo che siamo tutti quanti d'accordo per cui l'inserimento dei centri giocanili oltre all'inserimento dei ragazzi del muretto che abbiano almeno 17 anni 18 anni 20 anni in questo progetto penso che sia non so se dobbiamo se è una cosa acquisita o se quindi diciamo verrebbe già recepita all'interno del protocollo questa cosa o meno consigliera De Vivo presidente De Vivo i CAG ci stanno già nella proposta di risoluzione sono già menzionati me li sono dimenticati io di di illustrarli ma sono già al secondo passaggio del risolvere dell'impegno a risolvere perché giustamente il consigliere Cerisola me l'ha indicato io da chi è saggio prendo sempre spunto però ci stanno già a coinvolgere cicli di incontri a coinvolgere la consulta di giorni e di centri di aggregazioni giovanili presenti nel territorio perfetto ci sono già va bene prego Paola Vaccari grazie presidente io sostanzialmente sono d'accordo con l'intervento precedente del consigliere Borrelli perché no fare un'iniziativa cioè fare una una risoluzione oggi da presentare in direttamente in consiglio proprio per accelerare i tempi visto che le scuole stanno ormai nella fase quasi di chiusura eh quantomeno per coinvolgerli e spronarli nel prossimo eh nel prossimo anno scolastico perché ehm se non ho capito male eh i tempi di partecipazione sono brevi ma ehm il tutto poi si svolgerà probabilmente nel prossimo autunno eh visto anche che eh siamo nel 2024 prossimi alle elezioni europee eh chiaramente il progetto è un bellissimo progetto eh anche i miei nipoti hanno partecipato eh i miei figli no perché probabilmente sono troppo grandi e credo che sia abbastanza valido eh questo mh questo progetto mi chiedevo una cosa però eh è rivolto solo ai giovani quindi è è una cosa solo per i giovani per far capire che cos'è l'Europa o noi possiamo fare delle iniziative ad esempio mi viene in mente nei centri anziani perché sappiamo tutti che l'Europa è vista molto distante da noi eh come come consiglio europeo e mi domandavo se poteva essere un un altro feedback quello di portarlo nei centri anziani grazie concluso grazie Vaccari Marco Marco Cerisola prego Marco ha alzato la mano c'è ancora il microfono spento Marco ci sei devi accendere il microfono se vuoi intervenire ora facciamo facciamo intervenire Gino Alleori vai Gino prima che grazie presidente allora io concordo con l'intervento del consigliere Borrelli nel senso che ovviamente è un progetto molto interessante e molto spesso nelle commissioni affrontiamo questi questi progetti però anche molto spesso non evidenziamo le modalità di attuazione del progetto stesso per renderlo ancora più concreto fattibile fruibile dalle persone perciò concordo appieno con quello che ha detto il consigliere Borrelli grazie grazie Gino Marco Marco ci sono ancora problemi con il microfono vuoi schierare qualcosa in chat non lo so va bene facciamo parlare Fulvio prego Bellassai grazie presidente allora premetto che purtroppo la mia connessione oggi è stata estremamente instabile quindi ho sentito il discorso a pezzi e bocconi e mi dispiace anche se ho presente il progetto perché ne abbiamo parlato in una precedente congiunta e l'aveva illustrato il consigliere Ecca ovviamente che sia necessario utile e opportuno rendere più familiare lasciatemi dire così l'attività e il ruolo svolto dalla Commissione Europea in particolare ma dall'Unione Europea in generale penso che sia scontato insomma non credo che nessuno di noi si sentirebbe in alcun modo di contestarlo non ho capito mi pare di aver capito che in esordio il consigliere Ecca avesse parlato di favorire anche i dati non soltanto consigliere Bellassai non l'ho sentita nella domanda può ripeterla ecco adesso mi sentite forse meglio adesso mi sentite adesso mi sentite ok stavo dicendo che purtroppo il consigliere Ecca in una prima fase di esposizione di stimolare un obiettivo relativo a stimolare le candidature non soltanto uno scopo conoscitivo o di diffusione insomma della conoscenza nei confronti dell'istituzione europea questo è il primo quesito la seconda questione ecco e condivido molto quello che ha detto il consigliere Borrelli in relazione al fatto appunto che bisogna pensare i progetti nella loro concretezza e quindi appunto fasarli per esempio nel caso specifico con l'attività scolastica e però in relazione a questo non capisco non capisco la fretta di la necessità di di definire una nota oggi da presentare in consiglio oggi mi sembra che le due cose siano in contrasto se vogliamo valutare il progetto e dandogli la massima concretezza forse ci dobbiamo dare il tempo di ragionarci un attimo sopra e di magari dedicare altro tempo alla sua analisi non non ho capito la nota di oggi a cosa servirebbe e perché sarebbe così urgente scusate ma ripeto oggi ho sentito un po' a pezzi e bocconi e mi dispiace perché il tema è molto lo ritengo molto molto assolutamente importante e sensibile grazie Assessora tranquilli prego non so se il consigliere ci risano vuole riprovare prima ma 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 perché era da prima eccomi sì scusate ah Marco ci è riuscito va bene chiedo scusa no perché in realtà uscendo dall'ospedale insomma ringrazio le situazioni di stima di affetto dei coreri insomma uscendo dall'ospedale mentre stavo appunto partecipando in videoconferenza ho visto dei paracadutisti mi sono distratto scusate per oggi è una festa va bene chiudiamo la parentesi volevo dire che sono d'accordo con gli interventi che mi hanno preceduto quindi mi piace anche l'idea di lato fuori sacco però in effetti quello che faceva notare il consigliere Bellassai non è affatto fuori luogo sbagliato tutto sommato considerando che è vero che abbiamo il 9 maggio la festa europea però possiamo ricordare tante altre occasioni ad esempio il 10 giugno c'è l'anniversario delle prime elezioni a suffragio diretto del Parlamento europeo nel 1979 tra l'altro la prima volta che io ebbi la possibilità di votare essendo diventato maggiorenne e quindi comunque abbiamo altre ricorrenze che in qualche modo sono significative per cui anch'io sono dell'idea che forse accelerare i tempi potrebbe non essere opportuno sotto tutti i punti di vista cioè sotto alcuni punti di vista quindi sì sarei dell'idea di riflettere e comunque ringrazio i consiglieri che sono intervenuti prima di me e rimango in ascolto grazie presidente grazie Marco prego sessora è solo così sempre per ragionare insieme io sono d'accordo con consigliere Borrelli sarei d'accordo diciamo anche per presentarlo oggi però poi capisco che c'è anche bisogno magari di trovare una sintesi di confrontarsi in maniera più approfondita quindi vi faccio un'ulteriore proposta visto che il nove cade di martedì che è tra l'altro il giorno in cui solitamente c'è il consiglio la mattina potrebbe essere quello il momento di anche guardate io non volevo forzare la mano diciamo di questa commissione o della commissione del presidente Ecca che tra l'altro è stata coinvolta e che ce l'ha poi nelle sue tematiche anche quella europea era appunto una proposta poi appunto capisco perfettamente che meglio non andare con la fretta in alcuni casi però l'idea non era soltanto per questo progetto ma era anche proprio per che possono essere anche altri momenti come diceva anche il consigliere ci risola per iniziare a coinvolgere i ragazzi dei ragazzi insomma su questa tematica l'abbiamo visto per esempio per quel che riguarda i centri giovani quando non li coinvolgiamo direttamente c'è una risposta differente li abbiamo coinvolti diversamente per esempio con il questionario e c'è stata una bella partecipazione quindi cercare anche con dei modi meno convenzionali di appunto ampliare la partecipazione coinvolgerli non solo nelle scelte ma anche diciamo nelle informazioni io credo sia sempre un buon modo però capisco anche che le cose non debbano essere fatte con fretta quindi la mia ulteriore proposta è di su questo punto qua quello della lettera che appunto poi è diventato un tema di discussione di ragionare insieme per martedì prossimo che appunto è il 9 maggio e di presentare non per forza un atto anche fuori sacco come diceva il consigliere Borrelli cioè qualcosa che poi venga mandato anche successivamente non per forza il 9 alle scuole e come come lettera alle ragazze e ragazzi anche ai bambini che partecipano ai nostri gag questa mi sembra più fattibile questa proposta assessora sì si può presentare possiamo lavorare su una mozione non in questo momento non credo che abbiamo almeno che non blocchiamo la commissione per un'ora cosa che non è fattibile e ci mettiamo a scrivere una mozione si può provare a scrivere una mozione per chiedere alla giunta di inviare a tutte le scuole un ricordo non saprei come se mi aiutate a ragionare su cosa potrebbero essere i contenuti di questa mozione potremmo presentarla per il 9 maggio non oggi che abbiamo pochissime ore di distanza dal consiglio posso presidente scusi veramente lampo mi è venuto la stessa in mente noi domani abbiamo la giunta io posso anche in frattempo scrivere una memoria su questo in modo tale che gli uffici siano da subito perché poi sono gli uffici che mandano quindi che siano da subito coinvolti e poi voi martedì potete inviare una mozione un ordine del giorno quello che è più è più adatto ecco ecco sì questa mi sembra oggi è un vulcano assessora come al solito comunque sì sì questa potrebbe essere una strada una qualche cosa che si colleghi alla memoria alla memoria di giunta e possiamo allacciarci con una mozione per anche perché se avete la giunta quindi si può facilmente coinvolgere anche lì anche l'assessora alla scuola e quindi sicuramente è importante una sensibilizzazione sull'Europa è un è anche un parlare raccontare insomma di il 9 maggio non avremo il 9 maggio non credo che potrà questa risoluzione essere votata in consiglio municipale se non lo so i tempi credo di no credo che non ci siamo con i tempi perché deve passare ancora in commissione PNRR ho capito che è già passata in commissione scuola passerà lunedì immagino adesso non il consiglio del 9 è già convocato quello fuori sacco è già convocato dalla Cappi Gruppo ok e quindi bisogna fare questa cosa fuori sacco quindi non c'è questa risoluzione non sarà in votazione vedo che Fabio ha chiesto la parola e anche Gino prima Fabio e poi Gino sì grazie presidente no non per correggerla insomma questa proposta di risoluzione verrà diciamo esaminata e votata questo fa un'ora e mezza anzi un'ora quindi ancora formalmente diciamo non è non è stata votata scusso col consigliere Bellassai se ho detto una cosa che assolutamente non corrisponde al vero insomma non mi sembra di averla detta però insomma può succedere comunque le confermo che il progetto il ciclo di incontri non serve a come dire individuare il candidato o la candidata di Tizio Di Caio insomma serve per sensibilizzare i ragazzi alla come dire al ruolo dell'Europa che al ruolo dell'Europa e quanto l'Europa può diciamo come dire incidere nelle loro vite quindi spiegare loro con un'esperienza pratica che cos'è l'Europa e il processo democratico dell'Europa compresa quelle che sono le elezioni come è il ruolo dei parlamentari e degli europarlamentari insomma io visto che anche io ho dimostrato ignoranza sul contenuto di questa risoluzione mi ero l'avevo letta sicuramente ma mi ero dimenticata che già erano coinvolti i gag io direi se possiamo un attimo leggere la risoluzione e procedere anche alla votazione di questa risoluzione e poi ragionare su tutte le altre cose che sono emerse in questa commissione io se siete d'accordo condivido un attimo lo schermo se l'avete letta tutti ditemi se devo rileggerla o rileggo soltanto il dispositivo della risoluzione e ditemi un attimo se va bene e volevo condividere comunque lo schermo per votare la risoluzione Patrizia prima che leggi la risoluzione posso fare l'intervento? Sì scusa amigino avevo detto che si hai ragione prego grazie presidente la fronte di tutti gli interventi dei colleghi compreso il mio e anche quello dell'assessore tranquilli dove ci ricordava molto bene che se c'è un diciamo come dicevo io prima una modalità di attuazione c'è un modo di prospettare il progetto e di coinvolgere in modo più fattivo i ragazzi le persone ovviamente c'è una partecipazione maggiore e su questo io concordo pienamente con l'assessore perché se viene prospettato il progetto in una maniera rispetto a un'altra sicuramente avrà una partecipazione maggiore e per questo che dico che anche io concordo con i colleghi precedenti che hanno detto che non vedo la necessità oggi di portare in consiglio una una mozione fuori sacco perché abbiamo il tempo nelle commissioni competenti di affrontare proprio l'aspetto della modalità di attuazione dei vari progetti per renderli più partecipativi più fruibili più concreti possibili più fattivi grazie grazie Gino anch'io avevo scartato la mozione fuori sacco di oggi perché l'assessore tranquilli aveva ci aveva detto che il 9 maggio è un martedì ci sarà già un consiglio ed è una data simbolica quindi noi potremmo fare una mozione parlando di questa data simbolica la possiamo scrivere ve la ve la giro a tutti quanti insomma l'idea che è nata in questa commissione possiamo parlare dei contenuti però io volevo non volevo perdere di vista l'obiettivo di questa riunione che è quella della risoluzione quindi io vorrei leggerla un attimo velocemente non so se questa qua sbagliato scusatemi nulla chiudiamo questa cosa qual è la risoluzione verbale qua allora prendo subito la risoluzione eccola qua la vedete la vedete sì ok grazie perché dovete farmi un attimo io non lo vedo allora io la leggo velocemente permesso che per tre anni consecutivi nove università europee hanno realizzato il progetto per se ovvero una ricerca finanziata sotto il programma horizon 2020 che ha indagato in sette regioni europee quanto i cittadini si sentono europei e come percepiscono l'attuazione della politica di coesione UE sono state coinvolte Calabria Emilia Romagna per l'Italia queste regioni per la Polonia che non leggo perché sono i due stati che ricevono più fondi della Unione Europea ma anche il land austriaco del Bungerland dell'Essex nel Regno Unito e la regione sud-est in Romania l'estrematura in Spagna e la norra in Svezia che nel progetto per se è emerso che il primo problema è che i cittadini europei spessi non sanno che esistono fondi europei e se lo sanno non riescono a capire quanto incitano nella vita quotidiana dato che si è appurato che quasi un cittadino europeo su due non sa cosa sia la politica di coesione e se parliamo di politica regionale la percentuale sarà al 53% tali dati aumentano di numerosi punti percentuali nel caso dei cittadini italiani superando in ognuno dei due casi politica di coesione e politica regionale o è il 66% che l'affluenza di Italia nelle elezioni europee è costantemente sotto la media europea dato che nel 2019 nel bel paese hanno votato il 50,66% degli eventi diritto in UE il 54,50% nel 2014 il 42,61% e in UE il 57,22% nel 2009 il 42,97% in UE il 66,47% nel 2004 il 45,47% in UE il 71,72% e nel 99 il 49,51% e noi il 69,76% che nell'indagine eurobarometro post-elettorale commissionata dal Parlamento europeo nel 2019 le ultime elezioni europee hanno visto un aumento dei voti di gruppi di elettori più giovani ed europeisti e questo si è attrodotto in una maggiore legittimità per il Parlamento europeo più in generale giovani cittadini sotto i 25 anni più 14 punti per cento anni nel 2014 più 25 39 anni più 12 punti per cento anni nel 2014 sono andati al voto con un numero maggiore rispetto al passato che Europa Europe Direct Roma 3 promossa e coordinata dalla Direzione Generale di Comunicazione nella Commissione Europea agisce come intermediario tra l'Unione Europea e i cittadini a livello locale e si occupa di informazione e comunicazione sul territorio organizzando iniziative e progetti rivolte ai cittadini e in questa resta ha proposto al Municipio Roma 9 Euro la realizzazione di cicli di incontri denominati Europa e Municipio volte a sensibilizzare la cittadinanza sul tema dell'elezione europea 2024 e a comprendere meglio il ruolo del Parlamento europeo nelle politiche comunitarie che il ciclo di incontri Europa e Municipio vuole coinvolgere il maggior numero possibile di soggetti aventi diritto al voto in particolare coloro che eserciteranno il suffraggio attivo per la prima volta nella loro vita in occasione dell'elezione 2024 del Parlamento europeo ed è quindi indirizzato alle giovani e generazioni e al personale educativo nonché alla struttura amministrativa del Municipio Roma 9 Euro che ogni incontro sarà suddiviso in due differenti momenti il momento interattivo partecipazione a simulazioni e incontri formativi sul funzionamento istituzionale dell'UE anche presso le aule magne e scolastiche qualora disponibile l'incontro potrebbe essere organizzato presso i locali di Europe Experience Piazza Venezia con la possibilità di partecipazione a un gioco di ruolo sul funzionamento del Parlamento europeo momento formativo visita a scopo divulgativo presso la sede del centro Europe Direct Roma 3 sito in Viostienze che il ciclo di incontri Europa e Municipio non richiederebbe alcun onero economico da parte di Municipio Roma 9 valorizzerebbe ulteriormente il percorso che l'istituzione ha già fatto in termini di avvicinamento propositivo dei cittadini all'Europa e ai temi europei e che il ciclo di incontri Europa e Municipio può essere anche un progetto pilota da condividere in un secondo momento con altri municipi oltre a essere un potenziale volano attrattivo dell'ulteriore opportunità di finanziamento di creazione di rete e di sviluppo delle relazioni nazionali e internazionali acquisito il parere della Commissione PNRR eccetera eccetera tutto ciò premesso e considerato il Consiglio risolve di impegnare il Presidente del Municipio Roma-Eur e la Giunta ad adottare anche eventualmente con la sottoscrizione di un protocollo d'intesa che è Europe Direct Roma 3 il ciclo di incontri Europa e Municipio e a comunicare alle scuole in particolare alle scuole superiori di secondo grado l'opportunità di aderire nel prossimo anno scolastico al ciclo di incontri Europa e Municipio mettendo eventualmente a disposizione anche le proprie Aule Magna a coinvolgere anche nell'organizzazione di uno o più cicli di incontri Europa e Municipio la consulta del Giovere in Municipio Roma-Eur e i centri di aggregazione giovanili presenti nel territorio del Municipio Roma-Nova-Eur e a valutare la messa a disposizione della Sala Consigliare del Municipio Nova-Eur per uno o più cicli di incontri Europa e Municipio per i cittadini ok ho letto ho letto la la risoluzione a me sembra molto concreta la risoluzione perché chiede da proprio mette la cornice intorno al quale questo protocollo eventuale protocollo immagino che sia sicuramente un protocollo di intesa con Europa e che si debba muovere e diciamo manca manca il ragazzo del muretto che non è un CAG però comunque è un centro giovanile quindi dopo è scontato che i ragazzi scusate ma sono particolarmente ieri sera abbiamo fatto una riunione con la consulta della cultura e c'è stato un intervento sui ragazzi del muretto ma così era una riunione informale una riunione di conoscenza e quindi c'è stato un intervento di un'associazione musicale in cui parlava insomma dei ragazzi del muretto dell'importanza di questa associazione sociale scusate un attimo e quindi mi sembra una non mi sembra che ci sia nulla da aggiungere a questa risoluzione che mi sembra completa e concreta perché questi cicli di incontri come si diceva prima saranno stabiliti all'interno di questo protocollo o se non all'interno di questo protocollo successivamente abbiamo un anno a partire da settembre in cui si potranno coinvolgere le scuole poi abbiamo il centro il centro giovani viene indicato lì all'interno della risoluzione quali sono i due momenti in cui Europe Direct coinvolgerà e quindi mi sembra che sia completa e concreta ecco prego Fulvio Sì grazie Presidente a parte la battuta che mi consentirete rispetto alla consulta della cultura vorrei sapere mi piacerebbe sapere chi era il presidente ieri scusate mi è scappata ieri era una riunione era un aperitivo con le associazioni sì sì ho visto sì vabbè ma insomma era riferita alle problematiche legate alla consulta della cultura che trattiamo in altra commissione comunque siete stati no come? siete stati sì sì lo so benissimo lo so benissimo ma era riferita alla consulta della cultura Patrizia niente di che niente di che una battutaccia no invece ecco io purtroppo in questa seduta per me complicata perché frammentaria nella ricezione mi sa che mi temo di essermi perso due cose allora premesso che noi abbiamo fatto una congiunta il 14 aprile mi pare o 13 aprile nella quale già si presentò apprendeci fu l'audizione di Europe Direct Roma quindi insomma non so abbastanza bene di cosa stiamo parlando mi sono sfuggiti due aspetti il primo è dov'è la proposta di risoluzione cioè se ci è stata inviata condivisa me la sono persa e la seconda è quando andrà in consiglio Fulvio rispondo io la risoluzione è stata inviata a tutti quanti dal presidente del consiglio ed è stata affidata alle commissioni fra cui anche la commissione politica e sociali quindi l'ho letta pochi minuti fa se volete la metto in Teams però è stata inviata via è stata assegnata ma la commissione io non credo che l'abbia appunto in Teams non c'è io l'ho cercata a questo mi riferisco io l'ho trovata in Teams tra i file sì la risoluzione è delibere e allora me la sono persa appunto la mia domanda era questa scusate io la sto leggendo da lì l'ho vista a schermo ma l'ho scaricata da lì è delibere sì vabbè ma l'abbiamo avuto per i mail in automatico è di Teams sì sì esatto e poi Patrizia il fatto che sia stata assegnata al presidente consentimi non è la stessa cosa e invece è molto importante quindi faccio ammenda mi è sfuggito il fatto che stia in Teams grazie e poi quando andrà in consiglio? questo non mi ricordo se da regolamento c'è una data ma non credo che regolamento va calendarizzata dalla Capigruppo dalla Capigruppo non è stata ancora calendarizzata questa è la domanda no no guarda ti controllo per sicurezza quella di martedì prossimo sono abbastanza sicuro che non c'è però l'ultima Capigruppo l'ho saltata che era il mio compleanno ma mi sono persa però guarda no no se posso interagisco te la consiglierebbe la sai la controllo subito cioè perché quando il presidente le manda mette in copia l'ufficio di presidenza quindi prima che arrivi a tutti i consiglieri però la prassi è che quando viene poi lavorata dalle commissioni acquisisce un nuovo protocollo quindi va al presidente del consiglio che la mette in convocazione della Capigruppo la Capigruppo del 28 aprile che era venerdì ha convocato il consiglio di giovedì questo di oggi e del martedì prossimo quindi credo sia nella prossima Capigruppo che convocherà o uno o due consigli ok però lo verifico subito grazie mi muto e verifico nella posta grazie però non cioè non si può convocare una in consiglio una risoluzione prima che venga votata poi perché acquisisce anche un altro protocollo va bene prego Fabio sì no io non riesco a capire lo spirito delle domande la calendarizzazione a parte non spetta le commissioni deciderla ma appunto senza che sia votata prima dalle commissioni non si può mettere teoricamente le commissioni lo potrebbe pure tutte e tre potrebbero pure rifiutarla che fai calendarizzi una cosa che è rifiutata dalle commissioni non riesco a capire veramente lo spirito era una domanda semplicemente tecnica cioè volevo sapere se era stata calendarizzata due anni che stiamo in consiglio francamente e quindi? no io l'ho capito questa cosa evidentemente ma che cosa io non ho capito qual è il dubbio io ho soltanto chiesto se era stata calendarizzata la procedura è sempre quella non mi sembra che sia mai stata fatta una calendarizzazione in consiglio senza che sia prima se è proposta di risoluzione senza che prima sia stata votata in commissione magari sapete cose che io non so ma anche perché le commissioni possono modificarne il contenuto è certo possono fare insomma possono rinviarmi possono rinviarmi l'approvazione io non sto mettendo in discussione questo processo soltanto ho fatto una domanda rispetto a dove era la risoluzione che purtroppo nella discussione di oggi mi ero perso non riesco a capire perché vi urti tanto al consigliere mi sembra che l'abbia optato non capisco dove la proposta di risoluzione non lo so perché non sono entrato nella vostra pagina l'ho già trovata grazie al consigliere Borrelli ok va bene Marco prego mi sembra che rispetto a degli andamenti molto farraginosi ho fatto una domanda non c'era nessuna polemica non capisco prego Marco sì grazie presidente allora per quanto riguarda l'aspetto procedurale l'iter volevo dire che assolutamente si può chiedere se qual è la previsione come ipotesi quando uno pensa che l'ipotesi che venga approvata in commissione quando quando poi quali sono i tempi insomma perché poi c'è il passaggio in giunta il passaggio in capigruppo a volte la giunta da parere direttamente in aula quindi si può fare un'ipotesi all'incirca quando potrebbe andare in consiglio quindi la domanda è assolutamente recita stiamo parlando di ipotesi perché è chiaro che non 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 c'è ancora niente di definitivo visto che appunto la capigruppo è quella che decide insieme al Presidente Consiglio la calendarizzazione e visto che l'atto ancora non ha esaurito il suo iter all'interno delle commissioni ma comunque si può chiedere chiedere sempre recito per quanto riguarda comunque l'iter ricordo che non solo vanno in capigruppo per essere calendarizzati in consiglio gli atti approvati ma anche quelli che non sono stati approvati dalle commissioni per il voto del municipio è dato in consiglio quindi quello della commissione è semplicemente un parere come quello della giunta e intanto è che ricordo che nella commissione PNRR avevamo un esempio di un atto che non ottenne la maggioranza dei voti favorevoli ma andò lo stesso in consiglio come subito il consigliere cucunato e io tranquillizzammo il presidente della commissione dicendo appunto che non era un elemento stativo il fatto che non avesse avuto dei voti favorevoli con il cuore insomma la razza di questo motivo di questa consuetudine che va avanti da tempo in membro insomma è che altrimenti le risoluzioni proposte dei consiglieri di minoranza rischierebbero di non andare in consiglio e quindi si fanno comunque tutto qua grazie presidente grazie Marco per le precisazioni Fulvio prego sì anch'io volevo ringraziare il consigliere Cerisola perché mi ha fatto capire forse qual è l'oggetto della perplessità io ho parlato di calendarizzazione forse avrei dovuto parlare di previsione di passaggio in consiglio ecco forse il tema era questo peraltro insomma ecco appunto però invito il consigliere Ecca a evitare di dire siamo da due anni in consiglio perché mi pare che voglio dire sia far notare eventuali eh ignoranze tra virgolette altrui non mi sembra elegante io non lo faccio mai eppure noto tante cose che non condivido nelle procedure negli atteggiamenti e negli interventi e comunque la mia domanda era non polemica ma era riferita solamente al discorso dell'urgenza che è stato uno degli discorsi che abbiamo fatto oggi in commissione e da ciò nasceva la domanda sulla previsione del passaggio in consiglio questo è quanto grazie l'urgenza giusto c'è stato questo problema sul 9 maggio prego Danilo eh sì giusto per completare non per chiudere per completare rispetto alle ultime cose che diceva il consigliere Bela Sai adesso è molto più chiaro il senso della domanda allora il consiglio di martedì avrà un'interrogazione una delibere e due mozioni quindi ovviamente quest'atto non c'è quando sarà discusso in capigruppo e quindi calendarizzato sicuramente o molto probabilmente per non dire sicuramente nella prossima capigruppo che oggi non è convocata però verosimilmente potrebbe essere la prossima settimana quindi diciamo quest'atto che avrà i pareri delle commissioni nella giornata odierna verosimilmente potrebbe essere uno degli atti che va in consiglio non nel consiglio del martedì che è già convocato ma nel successivo o al massimo nei successivi però verosimilmente nel successivo poi è ovvio che la capigruppo è sovrana se ci sono altri atti in altre commissioni di cui banalmente io non faccio parte quindi non ho cortezza non lo so però diciamo questo è per chiudere diciamo la discussione su questo punto quindi nella prossima capigruppo che ancora non è convocata verosimilmente la prossima settimana la convocazione della capigruppo e quindi la convocazione poi dei consigli dei successivi grazie io sì grazie di tutte le precisazioni sono le 11 abbiamo anche vari eventuali io abbiamo vorrevo votare questa risoluzione e anche capire se siamo tutti d'accordo con il fare una mozione che possiamo presentare il 9 maggio che però a questo punto non abbiamo più un'altra riunione quindi che posso posso cominciare a scrivere io e la ve la ve la giro ve la giro in per email ovviamente avvisandovi in chat che ho scritto qualche cosa la giro anche al consigliere Fabio Ecca anche alla Ludovica Tranquilli che è quella che la sta sponsorizzando e che potrebbe fare anche questa memoria di giunta quindi provo a lanciarla lì poi se non ci piace se non vogliamo non la presentiamo il 9 maggio ecco quindi questo è quello che posso fare per in questo weekend per per le cose emerse in questa commissione c'è Marco Marco c'è ancora la mano alzata perché vuoi la mano di prima o vuoi intervenire nuovamente la mano di prima perfetto quindi io abbassata mi scuso mi scuso abbassata vogliamo fare dichiarazioni di voto non lo so oppure vogliamo direttamente votare votiamo votiamo Caterina prego se puoi se puoi cominciare la questa la procedura di votazione allora sì siete pronti va bene allora votiamo la proposta di risoluzione protocollo CN 56 150 adesione del municipio Roma 9 euro al progetto Europa in municipio proposto dal Europe Direct Roma 3 consigliera De Vivo favorevole Leori favorevole Angelini favorevole Bellassai favorevole Correlli favorevole Cerisola consigliere Cerisola favorevole Baccari favorevole con sette pareri favorevoli nessun contrario nessun astenuto la proposta di risoluzione è votata dalla commissione prima con parere favorevole all'unanimità bellissimo ragazzi grazie mille grazie mille a tutti quanti io vi saluto allora intanto grazie assessora grazie di tutte sempre di questa scusate la mia idea forse ha creato un po' di confusione però no io volevo soltanto prima che lei andasse via il discorso del 9 maggio sì è vero ci siamo parlate io pensavo che questa risoluzione fosse dovesse essere approvata prima del 9 maggio sarebbe stato carino diciamo che sarebbe stato un segnale ma non non ce l'abbiamo fatta è stata presentata adesso abbiamo avuto anche le feste del 25 aprile il primo maggio che certo non ci ha aiutato però ecco già questa risoluzione avrebbe potuto mandare questo messaggio il fatto di mandare un messaggio il 9 maggio o anche il 10 giugno come diceva anche prima a Cerisola che anche un'altra data potremmo ecco potrebbe essere l'oggetto di questa mozione che facciamo che lei giustamente ci ha ci ha ci ha suggerito e questo forse ha portato un po' di sconfiglio sì perché anche sia i miei ma anche penso negli altri consiglieri dovevamo correre per fare questa risoluzione per far votare qualcosa il 9 maggio ma i tempi non ci sono e quindi come ci ha detto anche Borrelli questa risoluzione potrebbe passare o il 16 maggio o il 23 maggio in consiglio quindi era giusto questo grazie mille Assessora per il suo entusiasmo sempre Presidente di Vino ne approfitto ah scusate no no stavo solo salutando ok scusate sì ne approfitto lascio anch'io la commissione anche perché fra poco inizia la commissione speciale grazie grazie per questa risoluzione per questo bellissimo progetto che porteremo in Europa però io volevo ricordare che in questa commissione è uscita anche l'idea di fare Europa in municipio 2 e quindi di allargare di capire quindi magari contattandola direct se può portare quest'altra idea di un progetto che possa come diceva anche prima la consigliera Vaccari magari portarla nei centri anziani o portarla anche in altri luoghi i comitati di quartiere eccetera per poter parlare delle votazioni nella commissione europea perché no penso che sia un ottimo spunto no? certamente no no sarà mia cura portarlo in commissione prima ne dovrò parlare veramente col centro da Ekte insomma magari hanno anche qualche cosa di fatto in precedenza che possiamo riadattare per le funzioni del municipio sì grazie 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 consigliere a questo punto vi saluto e passiamo grazie al secondo punto dell'ordine del giorno volevo dire Marco ma avete una capigruppo o no? allora c'è un obbligo a finire le 11 e un quarto Marco devi andare nella commissione pari opportunità abbiamo solo la PNRR non la capigruppo la PNRR io non ho quali opportunità se riuscite però a leggere l'intervento del consigliere Cerisola così approviamo quel verbale se no rimane appreso era proprio questo che volevo dire Marco allora è urgente Marco sì sì io allora io ho tempo fino ad 11 e un quarto anche dopo eventualmente quindi sono sono collegato e sento grazie Presidente allora no Marco nella convocazione di oggi c'era indicato il verbale del 23 marzo che abbiamo già approvato invece abbiamo il verbale del 30 marzo il verbale del 30 marzo riguardava il piano sociale noi abbiamo fatto le condizioni non c'è niente chi c'ha qualcuno può chiudere il microfono non c'è nulla grazie volevo c'era un intervento di 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 riguardo al piano sociale c'era un intervento di Cirisola Marco se vuoi lo metto a schermo o non so se l'hai visto già Marco no non l'ho visto se può metterlo a schermo grazie allora aspetta un attimo condividi ok allora diciamo in tutto in tutto il sto scorrendo velocemente dall'inizio ma si parlava si è parlato del piano sociale degli interventi della direzione della direzione socioeducativa poi ci sono stati un po' di interventi la consulta della disabilità l'intervento dell'assessore Tranquilli e poi l'intervento del consigliere Borrelli Vaccari eccetera c'era alla fine nell'ultimo parte di questo verbale c'era un intervento del consigliere Cerisola che è questo qua che è l'unico quindi il consigliere Cerisola parlavamo dei defibrillatori il consigliere Cerisola non mette in dubbio l'esistenza di un piano di intervento previsto dall'amministrazione ma ritiene necessario fornire indicazioni sulla modalità di intervento in caso sia presente un estraneo e tanto chiede di visionare l'elenco delle persone che gestiscono il defibrillatore e ne hanno la responsabilità in caso di emergenza questo va bene questo intervento Marco? Sì mi sembra che vada bene grazie Presidente Grazie allora Caterina il verbale viene approvato prima che Marco e Danilo ci lasciano alle 11.15 vi prego io ho bisogno di sapere l'elenco delle persone che hanno aderito al corso del defibrillatore del consiglio municipale perché come già detto volevo preparare preparerò mi metterò tutti quanti in copia una mail in cui chiedo a queste persone ai consiglieri se aderiscono al progetto pagando la cifra che ci è stata detta nella rete di tutti quindi ho bisogno di sapere se uno di voi due visto che vi siete girati che avete girato che avete fatto quell'indagine voi come capigruppo se vi potete dare quell'elenco consiglierò a cari prego sì il discorso è questo lei chiede l'elenco ma l'elenco secondo me lo deve chiedere al presidente dell'aula è lui che ha fatto la raccolta delle persone che vogliono partecipare dopodiché credo che sia sempre il presidente dell'aula che dovrà comunicare ai consiglieri che hanno fatto richiesta di partecipare al corso l'eventuale somma di spesa da affrontare credo che sia più opportuno così visto che abbiamo delegato comunque al presidente del consiglio era una precisazione la mia abbiamo delegato solo l'acquisizione della come dire la raccolta dei nominativi infatti è a questa commissione che è stata in qualche modo delegata l'organizzazione e questo fa parte dell'organizzazione quindi io preferirei piuttosto fare una mail una mail prego Marco sì volevo confermare quanto ha detto il consigliere Avacari il presidente del consiglio si è gentilmente incaricato di fare la richiesta a tutti i consiglieri e a lui i consiglieri hanno risposto quindi è lui che può fornire l'informazione solo per completezza volevo aggiungere che il consigliere Burgio e io già siamo formati quindi ovviamente adesso non so se il consigliere Burgio vorrà rifare il corso noi lo facciamo anche dato che è previsto dalla rete e dai nostri dottori di lavoro noi facciamo anche i corsi di aggiornamento quindi anche l'eventuale rifasso che non fa male noi fortunatamente lo facciamo già quindi io non parteciperò al corso perfetto non so il consigliere Burgio insomma io ovviamente non posso permettermi di rispondere al posto del consigliere Burgio voglio solo segnalare che lui ha dichiarato di essere già formato va bene va bene va bene pensavo non ce l'avessero i capi gruppo ma lo farò dare dal presidente del consiglio allora passiamo un attimo a vari eventuali esame della posta esame della posta Caterina penso che non ci sia nulla possiamo verificarlo al volo sì confermo confermo non c'è nulla di nuovo nella posta ok allora vado un po' di fretta perché sono già sono quasi le 11 e un quarto e alcuni consiglieri devono andare da un'altra parte io volevo dirvi che oddio mi ero segnata vediamo un attimo i punti che mi ero segnata per le varie eventuali ah uno è il punto ecco qua la pagina è giusta allora la prossima riunione sto organizzando vorrei organizzare la prossima riunione per andare a vedere il centro di di vitigna ho visto che il presidente del municipio ha inviato una nota sui tempi di percorrenza delle commissioni quindi dovremo se riesco organizzare questa 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 commissione dico se riesco perché ho fatto vari tentativi di contattare l'associazione e spero di poterli contattare entro oggi e quindi avere la possibilità di organizzare questa riunione che però sarà essenzialmente proprio sul dopo di noi anche sull'applicazione della legge dobbiamo ragionare su tutte le su non basta cioè il fatto di aver fatto di avere una casa in cui c'è questo programma non è la totalità dell'applicazione del dopo di noi ma ancora tantissime cose e volevamo volevo approfittare di questa riunione anche per capire dalla voce di un'associazione ancora le mancanze che ci abbiamo per affrontare il tema del dopo di noi e questa è una quindi se facciamo questa riunione fuori sed occorrerà che i consiglieri che non so se tutti i consiglieri o soltanto i consiglieri che hanno che lavorano questo magari facciamo tutti quanti per dire i tempi di percorrenza da casa alla da casa scusa Patrizia scusa Patrizia scusa faccio una consigliazione tu devi fare una commissione con sopra al luogo poi i consiglieri singolarmente decideranno se presidiare e venire in luogo nella commissione o farlo in remoto non è che devi chiedere chi chi no e chi si non so se mi sono spiegato tu prevedi una commissione con sopra al luogo dove dobbiamo andare poi sarà il singolo consigliere che deciderà se venire al sopra al luogo o no 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 ma questo lo ho per scontato io non posso venire a prendere a casa lo ho per scontato Gino io quello che dicevo che questo è semplicare quello che stavi dicendo te capito semplificare le cose sto dicendo che è arrivata questa nota non so se l'è letta l'è letta la nota nei tempi di percorrenza inviata dal presidente da Guastella l'è letta sì sì l'ho letta l'ho letta l'ho sollecitata io perché il segretario generale del comune roma non dava risposta in tal senso che ero io che l'ho sollecitata questa cosa quindi vuol dire quando noi faremo questo sopralluogo qualcuno di noi dovrà dire io per fare sopralluogo ci metto mezz'ora questo stavo aggiungendo non altro non voglio cambiare assolutamente né obbligare le persone a venire a fare sopralluogo e ovviamente sarà da remoto con la segretaria che è negli uffici quindi solo questo volevo dire che probabilmente dovremo dire ok per arrivare lì da casa mia ci metto 40 minuti 30 minuti 20 minuti questo è quello che dovremo aggiungere e penso che sia questo il senso della nota di Guastella poi dovremo volevo invitare a voi consiglieri visto che abbiamo stata votata in consiglio la delega alla legalità volevo dobbiamo ragionare anche su un piccolo piano ho delle io già ce l'ho qualche cosa che avevo già presentato tanto tempo fa però dobbiamo ragionare con voi anche su quali possono essere i temi della legalità che vogliamo affrontare e questo insomma vi chiederò ognuno di voi se mi mandate qualche email le mandate a tutto il gruppo per raccontare questa cosa un altro punto di cui vi volevo parlare è che sto tentando di fare una riunione con il tsmre anche questo non so come quando perché sono sempre molto complicate tsmre è la parte dell'asle che tutela la salute mentale per l'età evolutiva quindi tratta i temi della salute mentale essenzialmente per quanto riguarda i piccoli i giovani perché questo uno perché ce l'avevamo già detti da tempo che avremmo dovuto organizzare una riunione su con questa con questa uoci dell'asle ma anche per il fatto che ultimamente sono stata contattata sia dalla consulta della disabilità sia da una da un genitore che ha partecipato a dei conveni sull'autismo in cui ci ha raccontato della difficoltà delle terapie ABBA che per ridurre gli effetti che sono una terapia ABBA che sono un'analisi comportamentale che viene fatta proprio in età precoce sono delle terapie che fornisce l'asle e quindi di difficile però accesso perché c'è una lunga coda una lunga lista di attesa e quindi stiamo cercando di volevo circoscrivere il tema ho già scritto la Elena Megli che probabilmente non ha ancora avuto opportunità di analizzare la mia mail in cui volevo chiedere quali erano i centri di riabilitazione del nostro del municipio che potessero fornire questa ABBA quali sono i tempi le liste di attesa e quali sono le possibili azioni di miglioramento per consentire ai genitori di portare i bambini i genitori di figli con affetti da disturbi dello spettro autistico per migliorare le condizioni di questi ragazzi seconda cosa ho chiesto chiederò non era ancora non era ancora pronto qualche settimana fa la bozza del piano sociale che abbiamo detto che avremmo voluto riguardare in commissione quindi sarà una del immagino dei primi di giugno delle riunioni che dobbiamo fare ma è anche già prevista a piano un'altra cosa invece è questa del salvagente che è questa proposta che Fulvio ha fatto e che stamattina sono andata a vedere sul sito ci sono varie associazioni però salvagente e salvagente Italia per portarle in commissione ora Fulvio aveva proposto di portarle in una commissione congiunta io però poiché veramente non sappiamo dobbiamo approfondire quali sono le possibilità che ci dà questa associazione dobbiamo capire insieme poi a cosa lo vogliamo finalizzare se vogliamo chiedere un eventuale protocollo se non serve quindi le farei non in una commissione congiunta perché anche ultimamente mi sono accorta che le commissioni congiunte sono meno partecipate delle commissioni singole perché nelle commissioni congiunte probabilmente la gente si imposi non lo so non vorrei dire cosa magari pensa che ci sono tanti altri la commissione possa intervenire hanno paura che c'è poco tempo a disposizione invece le commissioni ordinarie sono commissioni molto più partecipate per quanto riguarda questa è la mia breve esperienza in quest'anno e mezzo di lavoro con voi quindi pensavo con Fulvio di chiedere a Fulvio di verificare se questa associazione era disponibile a fare più di una commissione quindi sia con noi che con la commissione scuola e magari lui sta in entrambe le commissioni io posso partecipare alla commissione come ospite alla commissione scuola prego Fulvio grazie presidente allora intanto sulla prima tema quello della legalità mi ha anticipato e anche io penso che dobbiamo cominciare a occuparcene perché insomma ci abbiamo messo già abbastanza a ottenere la delega e a questo proposito le chiederei la gentilezza di rimandarci quello schema in quel foglio excel nel quale individuavamo individuavamo gli argomenti potenziali anche in prospettiva perché l'ho cercato non lo so oggi sono un po' così forse avrò dormito male è su teams è su teams va bene allora lo cercherò meglio ma io me l'ero anche salvato io mi salvo tutto quindi quando non trovo una cosa poi mi nervosisco va bene comunque da lì penso che si possa mi pare che qualche argomento già ci fosse in quell'elenco pochi non molti quindi dobbiamo eh però eh d'accordo va bene per quanto riguarda salvaggia cioè voglio dire comunque potremmo partire da quelli ecco ora questo è il punto sì mi pare ci fosse il bullismo ce n'erano altri ehm per quanto riguarda la commissione dedicata all'attività BLS ho già scritto un'email messa anche lei per conoscenza ma durante adesso l'ho scritta quindi nella quale propongo propongo le due date dell'11 e del 18 maggio che sono le prossime sedute della commissione politiche sociali e poi per la commissione scuola io direi vediamo perché insomma ne abbiamo già parlato a tre io farò da ponte con la con la presidente vecchio per vedere poi di fare un di organizzare l'analoga seduta con loro se lo riterrà necessario perché glielo abbiamo già proposto come sa quindi aspetto la risposta va bene grazie mille a questo punto so che avete tanta fretta scusatemi se volete dovete lasciare la commissione la commissione la possiamo chiudere alle 11 e 23 24 non lo so possiamo chiudere alle 11 e 25 perché altrimenti poi si creano problemi per i due minuti della giustifica va bene 11 e 25 grazie 11 e 25 grazie 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 perfetto chiudo la registrazione vi saluto arrivederci buona giornata buona giornata grazie a tutti grazie